Ciao a tutti ragazzi, io sono Zayn e benvenuti in questo nuovo video di Minecraft. Ci troviamo nello snapshot 20V46A, in quanto infatti non è uscito il 20V47A. Purtroppo con grande delusione della community, perciò ho deciso di portarvi un video riassumendo tutti i bug che esistono in questa 1.17. Ma prima di iniziare voglio fare una premessa e ascoltate bene quello che sto dicendo. Dato che non vi mostrerò solo bug ma principalmente anche glitch, non usateli, non perché me ne interessi qualcosa, perché non lo so, alla fine li mostro perché forse qualcuno li vuole vedere. Ma più che altro perché ragazzi vi rovinano il gioco, io lo dico così, poi voi ovviamente fate quello che volete, però per me usare questi bug di duplicazione non è che sia così tanto bello. E soprattutto vi rovina il gioco, perché il gioco è un gioco, quindi ti diverti giocando, non duplicando le cose. Comunque fatto sta che questo se ne... Comunque fatto sta che questo bug è veramente molto famoso e... In pratica consiste nel prendere un sacchetto e un diamante. O meglio potrei anche semplicemente andare a prendere della neterite. Bisogna avere per forza qualcosa che ovviamente noi sappiamo, andando a mettere 9 diamanti in questa posizione otteniamo un blocco di diamanti. Io ho Queen Bundle perché è un vero casino questo bundle, in quanto sta veramente creando in questi giorni un sacco di problemi. Non solo glitch, ma anche bug, ma soprattutto anche ad esempio nello scorso snapshot, il 20V45A, è stato scoperto un bug, sempre glitch, che consentiva di duplicare le cose. Questo è meno grave diciamo perché lo scorso consentiva di duplicare tutti quanti gli oggetti, mentre stavolta possiamo duplicare solo gli oggetti che possiamo craftare in blocchi. Guardate un po' cosa succede se vado a fare il crafting, quindi qua ho il blocco, qua i diamanti, ma con il bundle vado a prendere un diamante. Ok, l'ho preso, ma ragazzi facciamo attenzione a questa cosa, se io ho qua il diamante, il blocco di diamanti si può craftare. Appena io lo tolgo non l'ho più, non lo posso craftare, ma se invece lo vado a raccogliere con il bundle, ecco che rimane il crafting. Cosa significa ciò? Io posso andare a fare un blocco, prendere un diamante, ma prendere anche un blocco. Quindi ho creato un blocco, ma utilizzando solamente 8 diamanti, cosa che non avrei potuto fare. Io posso andare a prendere i diamanti, tutti così, quindi avere i 9 diamanti, ecco aspettate. Partiamo da averne uno stack, io vado a fare un blocco, io vado a prendere tutti questi diamanti, quindi ne vado a prendere 9. Qua dentro ci sono, come vedete, 9 diamanti, ma vado a prendere anche un blocco. 9 diamanti, un blocco, come vedete, corrisponde a 9 diamanti, quindi dallo stack che avevamo abbiamo 9 diamanti in più. E ragazzi, ora quello che avete visto nella copertina, sempre sfruttando questo glitch, abbiamo la possibilità mettendo uno stack per ogni slot di diamanti. Quindi, andando a prenderne uno col bundle, innanzitutto, come vedete, abbiamo il blocco di diamanti che possiamo craftare. Ma attenzione, quando lo vado a prendere, qua di fianco, si creano 126 diamanti per ogni slot. Vale a dire, il doppio di 64 è 128 e, dato che appunto c'è un errore di programmazione, diventano 126, tra l'altro non 128, quindi errore nell'errore. E quindi ragazzi, questi sono veramente 126 diamanti, noi possiamo avere 126 diamanti nell'inventario. Ecco, una cosa, poi quando invece andiamo a metterli nello slot dell'inventario, si toglie il bug, perché infatti la parte di fabbricazione è diciamo che un po' strana, e si è unita al bundle ancora di più e quindi diventa uno stack e 62, che ragazzi è veramente una roba assurda. Noi praticamente da qua che avevamo stack di diamanti ad arrivare ad averne il doppio, cioè questi sono tutti diamanti duplicati. Una cosa che adesso voglio sperimentare esattamente in questo momento, sì, ad esempio noi possiamo farlo con 32 diamantiche. Vado a prendere qui, vado a prendere qua e, attenzione, infatti non diventa 64 ma 62 e quindi si duplicano. Quindi, e ne metto 8 anche qui, voi mi state dicendo che se io prendo questo, mi sbaglio sempre, se io prendo questo, prendo questo e diventano 14. Quindi il doppio meno 2 funziona! Ragazzi mi sono riempito l'inventario di diamanti, bene. Sono state poi aggiunte direttamente nel primo snapshot e ci sono piaciuti veramente tantissimo. C'è solo un problema, sono costose, non poche. Infatti costano due onicomb, due favi e una cordicella, per craftare una sola candela, più ovviamente il colorante. Però ci è piaciuta molto la feature, la quale noi possiamo mettere una candela sopra la torta e, diciamo, festeggiare il compleanno. Ecco, se non fosse che, facendo tasto detto sulla torta, vabbè, ce la mangiamo e ci ridà la candela, come è giusto che sia. Invece che essere in creativa, andiamo in modalità sopravvivenza, quindi, allora vi faccio vedere. Sono in creativa, schiaccio, mi mangia la torta, cosa che in creativa non serve a niente, però ok, e mi ridà la candela. Quindi, vedete, metto la candela, mi la ridà, arrivo a 11 candele, come è giusto che sia, e viene mangiata la torta. Se però mi vado a mettere in sopravvivenza, per qualche strana ragione, se faccio così, posso farmare letteralmente candele all'infinito. Cioè, ragazzi, rendiamoci conto di quante OP questa cosa. Sto farmando candele, tra l'altro se ne creano altre, perché, vabbè, però, oh mio Dio, è venuto pure a nevicare, cioè, vabbè. Cioè, ragazzi, noi ti mando a fare tasto destro, tra l'altro non solo sulla candela, ma anche sulla torta, vabbè. Possiamo andare a farmarci candele all'infinito, purtroppo non possiamo tramutare i noni, però, ragazzi, è troppo... Oh mio Dio, tra l'altro anche senza avere candele in mano, cioè, ci basta schiacciare la torta senza... Aspettate, anche se non ho candele nell'inventario, schiaccio lì... Sì, non ha senso questa cosa! Allora, in realtà ha senso, cioè, l'errore da cosa deriva, visto che noi dobbiamo essere scientifici e parlare da dove arriva l'errore. In sostanza, l'errore arriva dal fatto che io posso arrivare a fare fino a quattro candele su uno spazio. Il problema è che qua siamo su una torta, e quindi non si possono staccare le candele. Io dico sempre staccare, in realtà intendo, nel senso, mettere in stac... Staccare in italiano è un'altra cosa, vabbè. In sostanza, dato che questo non può succedere sulla torta, beh, niente. Candele infinite. E mettiamo weather clear di nuovo, perché vi devo far vedere l'ultimo glitch di oggi, quindi mi rivado a mettere in creativa e vi spiego di cosa si tratta. Si tratta di un glitch che tra l'altro esiste già dal 20v45a, ovvero quello di poter duplicare, udite udite, l'ametista. Quindi, sì, praticamente possiamo duplicare tutto in questo aggiornamento. Sembra che Mojang proprio si impegni a fare questi bug, va bene. Come funziona? Andiamo a prendere uno slime block, che sappiamo essere il mago delle duplicazioni. Prenderemo una leva per attivarlo, quando ovviamente potremmo fare un clock continuo, però vabbè, tanto non cambia niente. In realtà potremmo anche fare un clock continuo, però in realtà fa niente, vabbè, dopo ve la faccio vedere anche col clock. Però, il meccanismo base è il fatto di prendere uno sticky piston con slime block, come al solito. Prendiamo la nostra leva e prendiamo l'ametiste cluster, ovvero la finale, la fase finale, che si chiama drusa di ametista. Uno slime block insieme a sticky piston, mettiamo una leva per attivarlo, ovviamente mettiamo questo, perché se no non ha senso. E si è buggato tutto. Mettiamo una leva per attivarlo dietro, in quanto non so perché non funzioni se la metto di chianco, comunque... Sì, vabbè. Attivando questo, ragazzi, stiamo farmando ametista infinita, cioè, in così pochi secondi ne ho farmato tipo uno stack, cioè, immaginate... Allora, io devo metterli cristalli così, cristallo sopra, insomma, posso metterli in tutte le facciate, e in sostanza vado a farmare... Ah, aiuto, ragazzi, oh mio Dio, quanti sono! È troppa sta cosa! Cioè, ho farmato così tanti stack di ametista. Dato che sono pazzo, voglio anche fare per voi una farm che vada a sfruttare questa cosa. Allora, vi farò anche un breve tutorial di come si fa. Allora, andiamo a fare la farm, dunque, vado a fare, innanzitutto, un semplice clock che si fa... Mettiamo, ad esempio, un blocco qua, una tramoggia che lo punta, e poi una tramoggia che punta l'altra tramoggia. Questo è proprio un clock base, in sostanza andiamo a mettere un comparatore su uno delle due tramogge, e, come vedete, se noi andiamo a mettere un item, e, in sostanza, se noi andiamo a mettere un item qua dentro, si andrà a passare continuamente tra le tramogge e quindi avremo un clock che potremo andare ad utilizzare nella redson. Però basta, non vi care, perché so che è bello, però... Uno, mi fa venire voglia di Natale. Due, devo registrare! E se metto un repeater qua, e ovviamente con dei repeater lo passo ai pistoni, che quindi si continueranno a muovere, adesso lo tolgo un attimo, andiamo a mettere slime block a tutti i pistoni, facciamo, ad esempio, un punto di raccolta, quindi... E qui andiamo a collegare tutte le tramogge, quindi sarà un lavoro abbastanza lungo, anche se in realtà si potrebbe fare con uno semplice corso d'acqua, ma non lo voglio. Un momento, forse andranno anche più in giro di là, perciò, forse tipo la metà non verrà raccolta, ma fa niente. Via! Perché non funziona? Ma dai! Qualcuno mi spiega perché non sta funzionando, è tutto entusiasta, poi scopro questo. No, è partito, così, senza motivo. Mi piaceva questo slime block, però... Quindi, se io lo tolgo anche qui... Esatto! È partito! È partito! Cosa sto vedendo? No, ragazzi, è talmente baggato. Guardate questi pistoni, come si stanno muovendo. Cioè, questi si muovono così. Cos'è questa cosa? Aiuto! Guarda quanto è questa carta. Il punto di raccolta che ho fatto non serve a niente. Aiuto! Stanno raccogliendo tutti io. Qua non sta più... Sta più vedendo niente in mezzo alle tramogge. Cioè, ma stiamo scherzando, dai! Non è possibile questa cosa! Cioè, ne ho preso più io nell'inventa... Sì, vabbè, cioè, va... No, no. Perchè, questa cosa sta laggando tutto tantissimo, non so. Forse voi avete visto tutto laggare, perché... Tutte queste entità non so se riguono su questo pc, però... Fa niente. Ci do tirandomi frecce addosso, mamma mia. Cioè, non va... Eh? What? What? Ragazzi? No, aspetta, ragazzi, what? E questa cosa... No, aspetta. Sono abbastanza sicuro che in 1.16 non ci sia questa cosa. Un altro bug della 1.17 scoperto in diretta? Wow, questo non è un glitch, è un bug e basta, però... Qua... Vabbè. Io direi di concludere qua il video con le... No, niente. Sono sparite le frecce ballerine. Aspetta, devo concludere il video con le frecce ballerine, quindi vai. Frecce ballerine a volontà, sì, che bello. Allora, ragazzi, il video si conclude qua. Mi raccomando, lasciate un like per ogni freccia che... No, niente. Sono sparite le frecce, quindi non lascerete il like. E... Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdervi i prossimi video. E noi ci vediamo. No, niente. 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 No, niente.